Entro sei mesi, nel centro Italia, terremoto di proporzioni mai viste prima. Ecco un nuovo messaggio donato da Gesù a Luz de Maria. La preghiera, l'amore e la forza interiore saranno le nostre armi per affrontare questa prova. Attraverso la fede, troveremo la forza di ricostruire e di guarire. Questa profezia è un monito, un invito alla conversione e un messaggio di speranza. Rimaniamo uniti nella fede e nella speranza, e insieme, con l'aiuto della Madre Celeste, supereremo ogni avversità e rinasceremo dalle ceneri di questa tragedia. Costruendo un futuro migliore illuminato dalla luce dell'amore e della compassione. Leggiamo il messaggio. Amati figli, con il cuore colmo di dolore e compassione, vi comunico una profezia riguardante il centro Italia, un luogo di grande bellezza e storia, ma anche di grandi prove. Un cataclisma enorme, un terremoto di proporzioni mai viste prima, scuoterà questa regione, portando distruzione e morte tra le sue città e i suoi abitanti. La terra si agiterà con una forza tremenda, le montagne tremoleranno e le valli si apriranno come ferite profonde. Le città che un tempo risuonavano di vita e di gioia saranno ridotte in macerie, le strade che erano percorsi di speranza diventeranno sentieri di dolore. La devastazione sarà tale che molte vite saranno spezzate, molte famiglie saranno distrutte, e la disperazione si diffonderà come un'ombra oscura su tutto il paese. In seguito a questo disastro, la povertà e le malattie si diffonderanno come un'epidemia silenziosa. I cuori dei sopravvissuti saranno appesantiti dalla perdita e dalla sofferenza, e il mondo intero guarderà con sgomento e tristezza il destino che è toccato a questa terra amata. La carenza di cibo e acqua renderà la vita difficile, e molti saranno costretti a lottare per la sopravvivenza. Ma non disperate, figli miei, poiché in mezzo a questa desolazione, la luce della mia misericordia brillerà ancora più luminosa. Vi chiamo a un rinnovamento spirituale, a una fede più profonda, a un amore più grande per il prossimo. Ricordate che, anche nei momenti più oscuri, io sono con voi, il vostro Salvatore, e non vi abbandonerò mai. Pregate, amate, e siate forti, perché attraverso la vostra fede, troverete la forza di ricostruire e di guarire. Questa profezia è un avvertimento, ma anche un invito alla conversione. Rimanete uniti nella fede e nella speranza, e insieme, supererete ogni avversità. Gesù Cristo Grazie a tutti.